Sì, sì, sono molto contento e per me, come ho detto ieri, è un onore e un privilegio allenare questa squadra. Oggi abbiamo fatto comunque bene, è stata una partita difficile nel primo tempo perché l'Atalanta ha giocato molto bene, è stata molto forte nei duelli, abbiamo avuto delle difficoltà. Quando la partita si è aperta un po', allora poi la qualità che abbiamo lì davanti è venuta fuori. Però non è stata una partita facile, l'Atalanta per me ha giocato molto bene, sì, ha una qualità enorme, ha lavorato bene, ha fatto tanti scambi, ha lavorato a livello difensivo con gli altri. Ricordo che la squadra non ha giocato bene nel primo tempo, ma ha lavorato bene a livello difensivo, che è la cosa più importante. E poi ovviamente, poi quando si apre un po' la partita e abbiamo più spazio, è molto più facile per noi. Vinicius ha contribuito molto, tutti i giocatori là davanti, Bellingham, anche Bellingham, Rodrigo. E la squadra nel secondo tempo ha giocato molto bene, secondo me. Sì, gli ho fatto complimenti perché ha giocato bene, gli ho detto che giocare contro l'Atalanta è come andare dal dentista, perché loro sono molto forti nei duelli, pressano molto e credo che quando hanno abbassato il ritmo, noi abbiamo avuto più spazi e ci siamo messi davanti nel punteggio. Beh, è molto difficile, abbiamo parlato ieri con lo staff cercando di confrontare cosa spara nel 2014. La verità è difficilissimo, difficilissimo perché nel 2014 la squadra era fantastica. Davanti c'era Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Ed era un attacco eccezionale. Quello che non cambia in questo club è la qualità della squadra. Avevamo tanta qualità nel 2014, abbiamo tanta qualità adesso nel 2024, dopo dieci anni. Sì, sta procedendo bene, sta lavorando a livello individuale. E speriamo che possa essere disponibile a breve. Penso che i tre Bellingham, Valverde e Chiameni hanno fatto un grande lavoro. Dobbiamo pensare che questa è una partita diversa, c'erano tanti duelli, tanti uno contro uno, quindi era difficile trovare la superiorità in possesso. Quindi abbiamo cercato di giocare più verticale con palle lunghe. E questo non è sempre andato bene nel primo tempo, ma nel secondo tempo, quando abbiamo avuto più spazio, ovviamente abbiamo avuto più possibilità, più occasioni, ma penso che i tre abbiano giocato molto bene, soprattutto a livello difensivo, dando molto equilibrio alla squadra dietro. Beh, la cosa più difficile è trovare un buon equilibrio al centro con la qualità che abbiamo davanti. Se riusciamo a farlo, penso che possiamo avere una bellissima stagione. Abbiamo una rosa fantastica, per essere onesti, insomma, e quindi crediamo che lo troveremo questo equilibrio. Ecco, purtroppo ho avuto questo infortunio. sì, volevo mettere lo titolare, ma ha questo infortunio che spero che sia una cosa veloce, una cosa da niente, perché comunque è un giocatore molto importante, per noi lui poteva giocare stasera, ma purtroppo ieri si è fatto male.